Si è tenuta questa mattina presso il Salone della Curia Vescovile di Terni la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni in onore del patrono San Valentino. Il tema di quest'anno, ha sottolineato il Vescovo Monsignor Francesco Antonio Soddu, è dall'amore alla vita alla pace, per ribadire il legame fra questi sentimenti e rafforzare il messaggio di San Valentino. Il programma, come hanno ribadito tutti gli intervenuti, è stato realizzato grazie ad un profondo lavoro di sinergia fra diocesi, istituzioni, parrocchie e associazioni. Il percorso degli eventi valentiniani insieme al Comune per me è una grande conquista che già si stava costruendo ma che pian piano sta prendendo corpo per compatrare una città, per compatrare la nostra società. Dice perché prima non c'era? Sì, certo che c'era, ma dovremmo sempre di più salvaguardarla. In nome del nostro santo patrono, che è il santo dell'amore. Dire santo dell'amore non significa parcellizzare l'amore in quel sentimento che oggi c'è e domani probabilmente non c'è, ma l'amore a tutto tondo che dice la compartecipazione di quelle tre parole che noi abbiamo voluto mettere nel tema di quest'anno, dall'amore alla vita alla pari. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato un video promozionale su Terni, voluto dalla regione Umbria, che da ieri viene trasmesso sui canali della piattaforma Sky. Oltre al Vescovo hanno partecipato alla presentazione il sindaco di Terni, Leonardo Latini, l'assessore regionale alla cultura, Paola Gabiti e l'assessore alla cultura del comune di Terni, Maurizio Cecconelli. C'erano inoltre la presidente di sviluppo Umbria, Michela Sciurpa e il direttore artistico di Umbria Libri, Angelo Mellone. Dobbiamo recuperare quella dimensione comunitaria che solo ci può consentire di arrivare alla dimensione più internazionale, perché dobbiamo agire su più fronti, quello del recupero della figura dal punto di vista spirituale, sacrale, religioso e storico di San Valentino, come elemento che fa da collante di una comunità e la identifica e sulla base di quello puoi costruire un percorso che ci consente ovviamente di andare al di fuori di quelli che sono i confini cittadini e a tirare tutti coloro che hanno la voglia, la volontà di venire a vedere la nostra splendida città anche in occasione di un San Valentino che può durare molto di più di quello che è ovviamente la data del 14 febbraio.